Cosa facciamo se abbiamo un casco di banane ben mature? Oltre ad essere ottime da mangiare a naturale, poiché le banane quando iniziano ad acquistare queste macchioline marroncine, vuol dire che lì sono al punto perfetto di maturazione, sono dolcissime e buonissime, possiamo utilizzarle anche nei dolci. Prepariamo insieme il banana bread. Tra le varie versioni del banana bread che potete trovare anche sul mio blog, vi propongo la versione senza burro, quindi molto semplice, veloce e soprattutto viene un impasto morbidissimo, sofficissimo, che piace sempre a tutti, in particolar modo ai bambini. Io andrò ad arricchire il mio banana bread con gocce di cioccolato e noci, ma potete scegliere veramente quel che preferite. Frutta secca a piacere, potete anche non metterla. Cioccolato, tanto 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 cioccolato che rende questo banana bread ancora più buono. Oppure se non lo preferite potete anche non metterlo e lasciarlo del tutto al naturale. Prima di passare alla lavorazione delle banane, che devo semplicemente schiacciare con una forchetta, ecco perché mi servono matura, perché devo ottenere la purea di banane che diversamente non riuscirei a realizzare, vado subito con la preparazione dell'impasto, lavorando zucchero e uova, in maniera tale che mentre monta il composto di zucchero e uova, io procedo con la preparazione delle banane. Non sbuccio le banane, le schiaccio, le lascio tanto tempo all'aria, altrimenti rischiano di ossidarsi e diventare un po' nerette, cosa che non vogliamo. Quindi quando vedo che il composto di zucchero e uova inizia ad essere abbastanza spumoso, passo subito alla preparazione delle banane. Nella ciotola della banane etaria metto quindi lo zucchero, io sto utilizzando uno zucchero di canna grezzo. Oltre ad essere un prodotto grezzo, quindi sicuramente un po' più sano rispetto al prodotto raffinato, sebbene sia sempre zucca, noi non lo dimentichiamo, lo zucchero di canna grezzo, lo zucchero integrale, questo qui, ha anche un magnifico retrogusto di caramello che vi consiglio sinceramente di provarlo in particolar modo in questi tipi di dolci. Poi aggiungo due uova, a temperatura ambiente, grandi. Vado con la lavorazione. Nel frattempo sto anche per riscaldando il forno, poiché la lavorazione è molto semplice, dura davvero pochi minuti, in maniera tale che quando l'impasto è pronto posso andare direttamente in cottura. Quando vedo che l'impasto è abbastanza gonfio, vado anche a sbucciare, spezzettare e schiacciare le banane. Il mio composto di uova e zucchero è abbastanza gonfio. Ricordate sempre che potete procedere anche con uno spattitore elettrico, non per forza con una planetaria, ed anche a mano chiaramente. Non è un impasto che richiede una lavorazione eccessiva, quindi ce la potrete fare anche a mano. Benissimo, nel frattempo ho già schiacciato anche le banane e se non erano abbastanza mature non si sarebbero schiacciate con tanta facilità. Vado a aggiungere l'olio a filo a velocità bassissima. E dopo l'olio tocca alla purea di banane. Bene, ho lavorato questi ingredienti. Vado a setacciare la farina insieme al lievito. Adesso aggiungo anche le polveri, mantenendo una velocità molto bassa. Come vedete non è una lavorazione che richiede tanto tempo, per questo vi dicevo potete fare anche a mano. Vado ad insaporire. Un must è la cannella. A me piace tanto e ce ne metto tanta. Se non la preferite potete utilizzare qualche altra cosa, come ad esempio l'estratto di vaniglia. Io in questo caso aggiungo anche un pochino di estratto. Il mix dei due ingredienti darà ancora più aroma. Ultima lavorazione. Ho terminato! L'impasto si presenta denso, cremoso. È davvero un bellissimo impasto. E ora non mi resta che aggiungere quelli che sono gli ingredienti che andranno ad arricchire il mio banana bread. Come vi dicevo potete farlo anche così com'è. In teoria un bread americano, inglese, anglosassone, è un pane un po' dolce, non per forza arricchito con altri ingredienti. Ma io vado a mettere gocce di cioccolato, quelle extra fondenti. E noci. A me piace tanto preparare il banana bread con le noci pecan, ma se non li avete, io in questo caso sempre non li avevo, potete utilizzare degli nocini strani. Buonissime lo stesso. Le spezzetto direttamente a mano. Bene, ho unto uno stampo con il mio fidato staccante, ho versato l'impasto all'interno e adesso vado in forno, statico preriscaldato, 180 gradi, 40 minuti circa, mi raccomando, sempre la prova a stecchino. Ed eccolo qui il nostro banana bread, profumatissimo, è prontissimo. Devo ammettere che in cucina io ho un grande profumo di cannella, mi sembra quasi Natale, ho forse un po' esagerato con il quantitativo di cannella, ma a me piace tantissimo. Potrei mangiare le stecche come snack. Fatelo raffreddare e poi lo togliete dallo stampo e lo tagliate. Io vado subito di taglio. Scotta tantissimo e dovete lasciarlo intiepidire benvenito. No, vabbè, questo è buono, anche caldo e affumante. Beh, devi raffreddare un po', altrimenti è fattosino un po'. Però è bellissimo. Vi assicuro che è bellissimo. Anche buono. Vediamo un po' com'è venuto, se posso lasciarlo raffreddare. Freddo è ancora più buono, lo so, ma anche caldo, è il suo perché. Ragazzi, bellissimo. Morvido, umido, così come un vero banana bread deve essere. Quindi provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Se vi è piaciuta questa ricetta, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove video ricette in uscita. Io vi aspetto alla prossima ricetta, non mancate, nel frattempo correte a preparare il banana bread, mi raccomando, e lasciatemi sempre un like ed un commento. Alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.